Nel 1943, nelle sale cinematografiche nazionali, è in programma la proiezione della pellicola Redenzione, di Marcello Albani, un film girato completamente a Cremona, con attori di caratura nazionale. E ma c'erano degli attori vari, eh? Maglio Ferrari, Camilo Pilotto, Harold Dottieri. Questo è stato registrato primavera, estate del 1942. La sera del 25 luglio del 1943, la radio italiana comunica la venuta destituzione di Mussolini. Perché la gente era talmente contenta, libera, che è finita la guerra. Dopo il 25 luglio, anche Cremona vedeva già accampate le truppe tedesche dell'esercito della Wehrmacht, circa 600 uomini, presso la zona del Migliaro. Però non sapevamo che strade fare, perché ogni strada per ritornare dal centro c'erano delle caserne. Il giorno dopo gli italiani tedeschi si sono uccisi tra di loro e la città è stata terrorizzata. Il giorno dopo gli italiani tedeschi si sono uccisi tra di loro e la città è stata